Presentaci la tua formazione ed anche i brani che eseguirete. Allora, io sono Paolo Mele e Savocche, poi abbiamo Luigi Capiddu e Zamesovocche, su basso Giuliano Sannai e Zaccontra Antonio Pateri. Stasera andremo a presentarvi un brano di presentazione che è Savocche Seria e poi due balli tipici su Dillo e su Torturino. E allora, è tutto per voi, il tenore su Remedio Verosei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dandomi di ovantare curreione, detenerone Elena in mano mia. Grazie a tutti. 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 A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena. A modo di tenere vorare, comenta pari da sermosa lena.